Il 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Questa giornata, che dovrebbe essere una giornata di gioia e anche di commozione, purtroppo nasce in un momento storico drammatico, in un momento storico in cui la pandemia che abbiamo subito negli ultimi anni si sta attenuando, ma peraltro ha anche dei ritorni, ma soprattutto vediamo in una buona parte d'Europa, ma anche del mondo, delle grossissime tensioni che indubbiamente dal punto di vista della salute mentale, sia per coloro che sono direttamente affetti, ma non soltanto per chi viene colpito da determinate azioni, chiamiamole di guerra, ma in generale per tutta la popolazione, perché questi eventi non fanno altro che dare degli elementi di incertezza. e di conseguenza noi, noi come gruppo della psichiatria abbiamo notato che ci sono senz'altro maggiori richieste, maggiori richieste di aiuto. Questo deve anche suggerire che gli organi amministrativi, gli organi di governo mettano molta attenzione per quanto riguarda lo sviluppo della psichiatria, quindi che si possano essere anche più risorse, più risorse negli ambiti territoriali, più risorse dal punto di vista dell'aiuto sociale per le persone più fragili, più risorse per poter anche formare il personale in modo che possa agire in maniera più fine e più raffinata per aiutare le persone che soffrono di determinati disturbi. E poi è particolarmente importante che ci sia una grande attenzione sulla dignità di questi pazienti e che quando devono essere ricoverati, possano essere ricoverati o seguiti nei contesti che siano contesti dignitosi, contesti dignitosi, gradevoli che diano loro anziché un senso di essere gli ultimi degli ultimi, ma al contrario di essere orgogliosi di essere pure in un momento di malattia, accolti in contesti che rappresentino un rispetto anche per la loro persona. Credo che questo sia un punto molto molto importante. Non a caso la nostra azienda ha dato un input notevolissimo nella gestione dei luoghi della psichiatria, in particolare il reparto di psichiatria. Certo, diciamo che i ricoveri in ospedale, qualsiasi ricoveri in ospedale, rappresenta sempre un momento di forte impatto per le persone, sia in una condizione di grande fragilità. Quindi da anni ormai la nostra azienda ha avviato e porta avanti un progetto che va nella direzione dell'umanizzazione delle cure, quindi di un'attenzione che non deve essere soltanto all'aspetto medico e assistenziale, ma anche proprio a quella che è l'attenzione appunto al benessere globale della persona. Questo in tutto l'ospedale, in particolar modo, mi viene da dire, insomma nel contesto che si occupa proprio del benessere psichico delle persone. Quindi nel nostro reparto ad esempio abbiamo un'attenzione appunto prioritaria a quella che è la totalità della persona, quindi il sentirsi accuditi e il sentirsi accolti da tutti i punti di vista, anche diciamo con delle attività che nel quotidiano rappresentano un voler tornare o avviarsi verso quella che è la normalità. Quindi c'è sicuramente l'aspetto ovviamente medico, la l'aspetto infermieristico, ma anche una serie di attività che servono a portare le persone a sentirsi insomma più accolte, più globalmente assistite. Quindi ci sono ad esempio delle attività finalizzate proprio al comprendere i motivi per cui si viene ricoverati, comprendere quali sono i percorsi di cura e anche i fattori di rischio che possono portare ad un malessere più o meno temporaneo che può coinvolgere veramente tutti. Quindi noi abbiamo, grazie veramente a quelle che sono state i cambiamenti negli ultimi anni proprio logistici, logistici del reparto, abbiamo la possibilità e vogliamo sempre di più coltivarla di rendere il ricovero e anche l'uscita da ricovero un momento di crescita in realtà, non un momento per esempio di stigmatizzazione, perché il tema dello stigma è purtroppo molto presente e ingiustamente presente per i pazienti psichiatrici. Certo la tensione non è mai troppa, io credo che noi in questo contesto riusciamo a ottenere una modalità di cura anche nella fase più grave naturalmente del ricovero che mantenga ciò che venga ricordato a dei pazienti stessi come un momento di rispetto e di propulsione per un futuro migliore e per noi stessi anche ci insegna ad imparare che ogni persona ha qualcosa da dare e per ogni persona si può sempre tirar fuori il meglio di lei se lo vuoi fare, questo è importante. Questo è un altro discorso che è molto molto importante perché la salute mentale deve essere coltivata, non è che cresca in un vaso, deve essere coltivata e in queste situazioni appunto di grande criticità a livello mondiale è particolarmente importante riuscire a capire quali possono essere i fenomeni, gli aspetti protettivi oppure gli aspetti di rischio per la salute mentale. Quello che mi colpisce, noi stiamo in questo periodo, il nostro servizio si sta, in particolare tutto il mio gruppo sta cercando di mettere la massima attenzione sulle tematiche dell'adolescenza, gli adolescenti sono il futuro, abbiamo la fortuna di aver avuto un progetto che ci è stato dato dalla regione Veneto che poi è assegnato all'azienda ospedaliera ed è un progetto che mira a lavorare sull'adolescenza, sulle diverse fasce dell'adolescenza partendo addirittura dalla prima infanzia e quando facciamo questo discorso noi sappiamo che dobbiamo fin dall'inizio cominciare a pensare ai fattori protettivi ad esempio, molti dei fattori protettivi sono poco utilizzati e anche poco conosciuti, per esempio ne leggo da qua 3 o 4 che sono veramente molto banali, dormire bene, gli adolescenti spesso hanno delle inversioni nel ritmo sonno e veglia e poi hanno anche delle problematiche nel momento in cui devono affrontare il lavoro a scuola eccetera e poi la capacità e questo è un altro degli aspetti di cui si è parlato già da 10-15 anni, una fare un'attività, fare un esercizio fisico che è uno dei fattori protettivi del benessere e poi cominciare ad essere oppure anche ad avere l'aiuto di altri del conoscere delle strategie, quale ad esempio quelle le strategie di imparare a risolvere i problemi senza che questi problemi aumentino sempre di più, senza che l'avere determinati problemi e difficoltà non vada a generare quella rabbia che spesso poi non viene riconosciuta e che spesso nei giovani soprattutto va a finire in rabbia e anche in atti chiamiamoli così a volte antisociali, quindi queste tecniche che sono di nuovo tecniche che fra l'altro noi insegniamo anche in certi momenti nel reparto ma anche in generale in tutta la nostra struttura, imparare a gestire bene i problemi, imparare a risolverli e poi coltivare le proprie skills, le proprie abilità, noi abbiamo imparato nel corso degli anni che ci sono dei pazienti che hanno delle abilità che rimangono sommerse, che non sempre loro stessi ti ricordi, ci sono alcuni casi che ci siamo ricordati e allora è importante avere questo tipo di logica che non è altro che una logica di tipo preventiva, la prevenzione è uno degli aspetti meno utilizzati oggi come oggi e noi davvero di nuovo vogliamo essere figuri che danno un contributo per attivare i processi di prevenzione primaria, perché è la prevenzione primaria che poi puoi far sì che insorgano, che crescano altri aspetti e anche che si evitino quei percorsi più ospedalizzati oppure più come posso dire medicalizzati, di fatto soprattutto nell'area dell'adolescenza è importante che si diano le risorse ai ragazzi per poter vivere meglio, per poter avere una buona salute e cosa sono invece i fattori che noi dobbiamo assolutamente andare a cercare e poi anche a toglierli ad annientarli, per esempio i contesti nei quali ci sono delle avversità, in cui ci sono delle criticità ambientali e cercare di limitare il più possibile queste avversità o perlomeno di fronte a determinate avversità come è stato anche il Covid, riuscire a dare degli strumenti, sempre questi strumenti di cosetti di coping per ridimensionare quella che è la criticità. Ci sono dei dati della letteratura che ad esempio hanno dimostrato che semplicemente insegnando ai genitori di essere sereni anche nel momento del Covid, anche nel momento in cui non si poteva uscire di casa, rendere sereno il clima familiare, ha fatto sì che i bambini hanno avuto un input completamente diverso da quello che era l'effetto del Covid e questi bambini che nelle situazioni invece domestiche in cui c'era un allarme, una situazione di ansia finivano con avere delle fobie, con essere spaventati eccetera, invece gli altri se vedevano, e di nuovo è un altro aspetto semplice, molto semplice, se si trovavano in un clima familiare che prendeva questa situazione con una sorta di, non dico allegria però, con un'accettazione morbida, a quei bambini i problemi che sono stati poi successivamente rilevati non venivano. e questo è un altro aspetto importante. E poi c'è l'altro, di termini ce ne sono altri ancora che noi possiamo andare a vedere come fattori di rischio, ma voglio in un qualche modo anche segnalare altri aspetti che sono oltre i fattori di rischio, per esempio la solidarietà sociale, quello che gli inglesi chiamano social capital, la capacità di essere solidali e questo vale per le persone che non hanno disturbi psichici, ma vale anche per il contesto sociale in toto. Quali sono le cose da attenzionare in questo periodo storico? Beh, c'è un ambito che dà molta pena, è l'ambito degli eating disorder, dei disturbi del comportamento alimentare, questi ci tengo a dirli perché sono fenomeni veramente preoccupanti. Noi abbiamo, gestiamo, grazie a un gruppo di nostre collaboratrici, la coordinatrice e la dottoressa Rosa Dall'Agnola e abbiamo incrementato moltissimo i pazienti che ci chiedevano aiuto. Nell'ultimo anno, per esempio, sono stati aumentati del 30% i disturbi del comportamento alimentare, sono state aumentate di più del 50% le richieste di prime visite. Qui stiamo parlando di situazioni che riguardano gli adolescenti, gli adolescenti e anche ultimamente i bambini. La letteratura ci dice che negli ultimi tempi gli esordi dei disturbi del comportamento alimentare si sono resi sempre più precoci, tant'è che attualmente il range va dagli 8 ai 12 anni di età. E va anche detto che tutti questi episodi, tutte queste situazioni, queste sensazioni, queste problematiche alimentari che poi si portano dietro a tutta una serie di altri comportamenti. e va anche detto che buona parte delle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare sono persone con un assetto cognitivo straordinario, quindi sono persone che possono dare molto alla società, ma che questo disturbo che ancora non ha trovato sufficienti strumenti e anche sufficienti risorse per poter curare le fasce che ne hanno bisogno. E questo è un altro dei segnali che ci è arrivata a sorpresa da un certo punto di vista, sapevamo che c'era il problema, sapevamo che era in crescita, però siamo rimasti storditi quando abbiamo visto gli ultimi dati epidemiologici. E peraltro il problema insorge nell'età adolescenziale e preadolescenziale, quindi voi capite che da questo purtroppo dopo andranno a crearsi altre altre problematiche. Purtroppo, un dato che è arrivato da pochissimo, i disturbi del comportamento alimentare purtroppo determinano ogni anno circa 40.000 morti. Perché? Perché quando è molto spinto l'aspetto del comportamento alimentare, soprattutto il quadro dell'anoressia, ebbene purtroppo il corpo a un certo punto perde di risorse. Ultimissima cosa, se volete che dico, c'è un altro fenomeno nelle fasce adolescenziali che sta emergendo, è il fenomeno dell'autolesionismo, ragazzi che si tagliano. Un fenomeno che sembra assurdo, in realtà poi quando si comincia a cercare di capire qual è il significato di questo fenomeno, il significato che ci raccontano questi ragazzini, queste ragazze, è il dolore che mi faccio da solo, e molto meno del dolore che ho per determinate situazioni, come ad esempio il non riuscire a capire qual è la propria identità, chi sei. E questo è importante, è molto importante che si riescano a creare delle sensibilità in questa società, perché questi ragazzi possano poi perdere quei momenti di grandissima angoscia, che poi a volte diventa anche una spinta all'ideazione suicidiaria, oppure diventa una spinta alla ricerca di quelle situazioni a rischio che ti fanno sentire forte. Insomma, in conclusione, l'attenzione ai giovani, all'adolescenza, credo e fortunatamente sta diventando sempre di più, anche a livello regionale, ci sono molte attività che si vengono man mano sviluppando, insomma, di tutto quello che possiamo chiedere nella nostra vita, io credo che la cosa più importante sia riuscire, riuscire a ripristinare un'adolescenza, un'età della vita dei ragazzi che possa essere molto meglio di quello che al momento ora noi vediamo. E siamo, credo, tutti, tutti piuttosto impegnati a migliorare questa situazione, senza, ma abbiamo fatto un progetto, un progetto nelle scuole, che abbiamo chiamato proteggere il futuro, ed è importante proteggere il futuro per appunto degli adolescenti, costruire, proteggere il futuro.